Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il bollettino di Toscana Neve. Un buongiorno davvero per la nostra montagna dove finalmente è tornata la neve. I primi fiocchi sono caduti, martedì poi una bella nevicata ha biancato le piste tra mercoledì e giovedì. Ci sono circa 30 cm di neve fresca in Appennino e in vetta all'amiata. Sempre all'amiata, quota rifugi, sono caduti circa 10 cm di neve. Le temperature sono previste in calo, i venti da nord per il fine settimana ci sarà il sole, insomma condizioni dovunque ottimali per andare sulla neve. Vediamo allora con la grafica la situazione nelle singole località. Alla Betone, altezza neve 30-60, gli impianti aperti 15 su 17, il comprensorio è quindi quasi totalmente in funzione. Da confermare per sabato l'apertura della seggiovia Regine Selletta e l'apertura dello skilifter del gomito per chiudere il circuito sci ai piedi tra zona Betone e zona Ovia. Aperti oggi, venerdì, collegamenti sci ai piedi tra zona Pulicchia e zona Ovia, tra zona Val di Luce e zona Ovia. Aperto lo snowpark al Pulicchio, info multipassabetone.it. All'amiata, altezza neve 10-30, gli impianti oggi sono chiusi. Per il fine settimana confermata l'apertura delle sciove Giolli e Asso di Fiore della seggiovia Cantore con le relative piste, info ammiata neve.it. Cutigliano Doganaccia, altezza neve 30-50, gli impianti sono tutti aperti. Questa sera e domani, dalle 18 alle 21, sarà aperto lo skilift per le discese in notturna, info doganaccia2000.it. In Garfagnano, altezza neve 30-60, gli impianti aperti 5 su 6, sono aperti tutti gli impianti al casone di Profecchia e a Careggine sono aperti gli skilift Campo Scuola e Monte La Cima, aperti gli itinerari di fondo al passo delle radici. A Zeri, altezza neve 50-80, gli impianti sono tutti aperti. Sono aperte anche le piste di fondo e praticabili gli itinerari per le ciaspole. E veniamo adesso agli appuntamenti. Riparte la stagione agonistica dello sci alpino. La betone domani e domenica sono in programma un gigante e uno slalom validi per la qualificazione al criterium interappenninico allievi e ragazzi. A Zeri in tutti i rifugi, menu a chilometro zero. Con le specialità del territorio per festeggiare la neve sempre a Zeri, prezzi speciali, ski pass 20 euro ridotto a 15 euro. Ed è tutto con il bollettino di Toscana Neve, vi do appuntamento a venerdì prossimo e naturalmente vi auguro un buon fine settimana sulle montagne della Toscana. Tutti a sciare! Tutti a sciare!